ultimamente per scala Policasa ci hanno fatto bene, quindi siamo un bel amico, un amico che ha dimostrato di avere grosse qualità. Tu personalmente più giochi, più entri in forma, hai bisogno di partite, il mister lo ha capito e quindi ti butta dentro subito e ti lascia proprio fino a quando non sei stravato. Sì, oggi ho letto qui dai nostri colleghi, da marzo a prima non giocavo a minuti, quindi l'ho usato soltanto un po' verso la fine, però non ho cercato di dare il massimo e correre per dare la mia prestazione alla squadra e cercare di finire. Dobbiamo essere soddisfatti di questo posto. Quinto risultato utile, consecutivo, dopo quattro vittorie, tu la sede Piracomo ci vede e conterà continuità, conterà sempre lì, conterà essere costanti. e poi ne lo sto facendo. Sì, ma infatti dopo quattro vittorie ci sta un maleggio contro una squadra ma di che non so nemmeno, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. E poi ci fa un ogni altro e vogliamo guardare avanti e secondo me è molto sposto. Sì, nel finale l'Oper è stato messo bene, perché ci ha manco un punto, un punto, un punto un punto, un punto, un punto, un punto, un punto. C'è manco davanti, tu puoi fare un attaccante esterno o avanti da qua? Sì, personalmente mi sono trovato bene, però non dipende da noi, da noi dobbiamo ascoltare il ministro, dall'educazione, dall'incambio, dall'incambio, dall'incambio. Cerchiamo il bello del luogo. Cos'è mancata per vincere? Cioè, quando vi ritrovate, diciamo, in queste partite cosa bisogna fare per cercare di vincere? Sì, ma quando andiamo a tutte le squadre che vi affronteremo da qui davanti, giocheremo sempre contro squadre che si chiuderanno. Quindi forse è mancata un po' di cattiveria, per esempio, per giocare del singolo oppure un pizzico di fortuna sui calci forzati. Sì, però succede, ha fatto tutto guadagnato, continuiamo con questa stessa scena positiva e poi andiamo a casa. Tu la conosci anche abbastanza da queste giornate, ma in tutti i suoi calci. Se facciamo un punto, lui fa la classifica. La classifica stessa mostra che il Bologna è sempre più tra sulla terza. Il male che va, perché non è sempre più buono. Sì, ma infatti, cioè, l'importante, ci stanno partire così, dove non sai, ma riesce a trovare il risultato. E' un po' di fare una delle partite, anche per l'attività, per l'attività, per l'attività, per l'attività, per l'attività. Grazie. Grazie. Grazie.